amici buonasera a tutti ciao ben ritrovati di nuovo su questo canale oggi sono stracontento di essere in compagnia con roberto sartori ciao roberto benvenuto sono veramente contentissimo finalmente di ospitarti qua perché per me è un'occasione anche per questo canale diventata un'occasione anche per far conoscere i miei amici e gente che vale alla fine perché tu sei uno degli astrofotografi che sono più contento di aver incontrato in questi in questi anni attraverso le attività che mi portano a conoscere tante persone sei una delle persone più in gamba che ho incontrato sono felicissimo che di essere diventato tuo amico sei una persona veramente molto in gamba e infatti lo hai dimostrato immediatamente nel momento in cui ti sei appassionato all'astrofotografia hai iniziato a donare tantissimo all'astrofotografia e mi fa molto piacere poter raccontare un po oggi la tua passione e poi soprattutto farti presentare un grande contributo che hai donato appunto all'astrofotografia specialmente sul tema di pixinside vi anticipo da subito che roberto ci racconterà le novità che sono state introdotte in un grosso aggiornamento di pix ma che lui con edoardo radice hanno fatto un bellissimo webinar gratuito dove si spiega per file per segno nel dettaglio tutti gli aggiornamenti e perciò oggi facciamo un riassunto perché mi faceva parte mi faceva piacere in qualche modo poter rimbalzare questa novità no e poterti incontrare e farti conoscere anche chi magari ancora non ti ha non ti ha visto non ti ha conosciuto però ecco in descrizione quando roberto ed edoardo metteranno online il filmato sul sul canale di edoardo radice giusto lo caricate qui sotto in descrizione quindi magari quando vedete questo video c'è già andate a cliccare sul link del webinar integrale di roberto dove vi racconta tutte le per file per segno in dettaglio con degli esempi pratici in modo di utilizzare le funzioni introdotte da questo l'ultimo aggiornamento di pix rob allora io a me penserebbe che ci raccontassi prima un po di te di come è nata la tua passione di quello che combini con l'astrofotografia adesso da quando hai iniziato cosa fai ma guarda in realtà non è tantissimi anni che sono in che ho cominciato a coltivare questa questa passione ho cominciato due anni e mezzo fa dopo una notte in cui durante un viaggio in nave per andare in vacanza in sardegna sono uscito sul pontile e ho guardato verso il cielo e rivedendo questo cielo buio che ormai è sempre più difficile vederne oggi che mi ricordava i cieli bui di quando ero piccolo e la passione che avevo a suo tempo insomma fin da giovane riguardo l'universo sull'astronomia eccetera mi è tornato un po voglia no di riditi karmici quindi quindi due anni e mezzo fa ho comprato il mio primo setup super semplice e ho cominciato a ricercare un pochino online tra l'altro trovando i tuoi video come prima fonte di ispirazione li seguivo tutti quindi in realtà io sono nato con te diciamo agli inizi e niente quindi un pochino alla volta ho cominciato a scoprire questo quanto è diciamo articolato e multidisciplinare fare l'astrofotografia e quando ho installato il mio primo pixinsight ho subito scoperto che esisteva questo repository open source in cui si potevano scaricare i sorgenti di questi script e ci si poteva giocare quindi ho colto la palla al balzo e ho cominciato subito a guardare come era fatto il codice a svilupparmi i primi tool che magari servivano a me per fare certe indagini e un pochino alla volta le idee sono andate avanti perché tu poi professionalmente te ne occupi sei molto capace cioè te ne occupi a livello professionale sì sì l'ho fatto sia negli anni di ricerca all'università l'ho fatto sia dopo come nella mia esperienza imprenditoriale lo faccio oggi qui in svizzera come sviluppatore in una banca quindi ho sempre sviluppato diciamo e da lì cosa è successo vabbè a parte che hai iniziato col tuo setup a fare foto tra l'altro molto belle vai com'è il tuo cielo lì ma allora le condizioni meteo sono un disastro penso però è una cosa abbastanza comune come tanti gli inverni abbiamo veramente poche notti in generale le notate buone non sono tantissime però io con adesso un campionamento di circa 1,6 secondi sono contento poi ti dico non ho questa grande esperienza con con attrezzature diverse e col fatto di stare sotto cieli diversi quindi è difficile per me comparare o dare un giudizio assoluto però vedo che riesco abbastanza spesso quando quando non ho nuvolo sono abbastanza contento delle foto che vedo anche comparandolo un pochino con quello che c'è in giro mi sembra di essere nella media poi però ecco per la parte invece di di sviluppo per la parte nerd informatica che cosa hai combinato poi ma guarda per la parte nerd io in realtà diciamo quella di pixi insight oggi è un pochino la punta dell'iceberg no nel senso che quando prima ho fatto un sacco di cose secondo me stupende che però sono chiuse nel cassetto nascoste nel mio hard disk condivise magari con edoardo luca radice però non sono mai riuscito a condividerle diciamolo perché non l'ho mai sviluppate con l'idea cioè le sviluppo per le mie ricerche no quindi per fare le mie misure o per analizzare quel tipo di problema e via dicendo pixi insight è stato un pochino l'occasione diciamo invece di fare qualcosa per per poterlo poi condividere no alla comunità esatto quindi quindi il tutto era nato da questa prima idea di arricchire diciamo il bacio per processing che era un strumento era utilizzatissimo insomma già due anni e mezzo fa però vedevo che tanti dicevano di non usarlo proprio per il fatto che volevano misurarsi le stelle c'era questa famosa formula certo in realtà un po controversa e contestata anche da me in cui in cui le persone generavano i pesi delle immagini quindi diciamo evitava cioè si fermavano alla calibrazione e o forse delle volte neanche a quella e dicevano io non l'uso per questi motivi al che mi è venuta l'idea di mettere un pochino assieme di unire diciamo no la parte mancante di colmare questa parte mancante su questo script li ho cominciato addentrarmici insieme a tomaso rubecchi a suo tempo sì e quindi abbiamo pensato a come poterlo fare come poterlo fare in modo semplice e quella è stata un pochino la prima il primo diciamo grande contributo che che siamo riusciti a dare alla alla comunità e a questo script mi ricordo quando è uscito il weighted batch il vostro batch preprocessing rivisto cos'era il 2018 era sì il 2018 2018 infatti sì è fino a quel momento sì effettivamente la maggior parte delle indicazioni dei consigli per quanto li fosse un po' per quanto riguardasse l'integrazione e tutta la procedura per arrivare ai master era diffusa no il consiglio di sviluppare tutta la procedura di intraprendere la procedura manuale sì diciamo che l'approccio che per carità non è assolutamente sbagliato è sempre stato quello di dire impara a farlo a mano e poi quando padroneggi il processo manuale allora utilizzo uno script che automatizza quelle cose che sai che poi automatizzare se che fa benissimo per carità con il weighted che cosa avete inserito nel 2018 guarda il weighted in realtà non ha cambiato nulla che che intaccasse questo tipo di filosofia e nulla in realtà è stato fatto finché non siamo arrivati a quest'ultima versione perché il weighted diciamo si subentra nella prima fase di post processing in cui dopo la calibrazione abbiamo integrato questa formula che ti consente di generare di pesare i tuoi light frame e scegliere anche l'immagine di riferimento da utilizzare esatto scegliere automaticamente l'immagine di riferimento e quindi c'era un po' l'idea ecco di consentire di fare la stessa cosa che si farebbe con il subframe selector che i tempi erano uno script ma in modo più un pochino più intuitivo quindi non c'era più bisogno di scrivere a mano la formula ma c'erano dei pesi che si potevano trascinare la formula era esattamente quella certo quindi era l'automatizzazione di un processo semplicemente un po più tedioso un po più macchinoso fatto col subframe seletto poi arriviamo al 2021 perché l'aggiornamento quando è stato rilasciato quest'ultimo si si quest'ultimo gennaio mi parla in gennaio quindi si già 2021 è uscito e bravo è stato rilasciato ecco allora ecco perfetto da poche settimane si è uscito un nuovo waited but per processi a tutti gli effetti rob lì avete cambiato tutto hai cambiato tutto ci sei tu dietro tutto questo aggiornamento no ci sono io e c'è il come dire tutta quella comunità ok che in modo abbastanza insistente ok chiedeva delle chiedeva di togliere delle limitazioni o cercava di fare delle cose che era molto complesso fare con il batch per processi con il waited batch processi precedente e allo stesso tempo c'è tutta come dire questo diciamo raccolto un pochino tutta l'esperienza che ho visto seguendo le problematiche che avevano le persone si è la difficoltà di riuscire da un lato a controllare questo processo di calibrazione e anche dall'altra di comprenderlo perché la logica di come il bad il waited batch processing associava i master ed eseguiva la calibrazione era effettivamente un po nascosta non emergeva si non era palese insomma anche per chi conosceva le logiche tante volte alcuni check box era un pochino fraintesi non erano chiari quindi non era un problema legato soltanto ai neopiti era un problema che emergeva a livelli anche molto più alti quindi ecco quindi a dicembre a un certo punto mi sono detto c'è bisogno di far emergere questa complessità e renderla a chiunque in modo molto 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 più semplice ok chiaro versatile direi cioè personalizzabile adesso ci farai un po' il riassunto delle novità parte di questa poi comunità penso che sia anche nel vostro gruppo facebook no che tu gestisci insieme a radice insieme ad altre persone che è senz'altro il punto di riferimento italiano su facebook per pixinsight che è il gruppo di pixinsight di pixinsight italia giusto adesso al di là tu avrai senz'altro un bacino anche di utenza internazionale collaborando con pixinsight sicuramente avrai avrai sott'occhio un po tutta la comunità che lo utilizza però ecco dal punto di vista italiano senz'altro quello è un bellissimo strumento di confronto quindi se non conoscete il gruppo di pixinsight italia andate a visitarlo iscrivetevi e li trovate dei personaggi di questo calibro che poi vi aiutano e che davvero conoscono qualsiasi segreto di pixinsight che al volo vi possono dare una mano per qualche difficoltà per errori per dubbi quindi quello è un servizio impagabile un'altra delle cose molto belle che donate alla comunità e agli appassionati di astrofotografia allora facciamo questa premessa io non sono mai stato un utilizzatore dello script ok nonostante lo avessi fatto esatto nonostante lo avessi fatto sostanzialmente io l'ho fatto per le persone che lo usavano ok ma io facevo ancora parte della vecchia guardia in cui mi calibri mi generavo i master a mano mi guardavo tutti i file eccetera eccetera a quel punto mi sono chiesto se io fossi un utilizzatore di questo script cosa vorrei vedere no cosa vorrei capire ok quindi mettendomi nei panni dell'utilizzatore ok facendolo in modo veramente profondo cioè quindi cercando veramente di sviscerare tutti i dettagli che io so essere nell'implementazione dietro a questo script a quel punto ho avuto l'idea di fare questo pannello di controllo che è una delle due grandi novità diciamo che sono state introdotte in cui io avessi una chiara supervisione della configurazione attuale diciamo dei flussi di calibrazione che sono eseguiti dallo script ok quindi diciamo non volevo che nessun dettaglio assolutamente nessun dettaglio potesse sfuggire da questa schermata in modo tale che a colpo d'occhio potesse avere una panoramica e potesse capire immediatamente quale sia il master dark associato alla calibrazione di quel flat piuttosto che a quel light se ci potessero essere potenziali problemi di compatibilità se le esposizioni corrispondono o non corrispondono se voglio ottimizzare ma quell'immagine è cfa o è pure monocromatica e tutto questo tipo di considerazione ok messa assieme in un unico pannello in modo chiaro e soprattutto personalizzabile no? hai sviluppato un'infografica una grafica che ti presenta tutte le impostazioni le caratteristiche e anche il modo in cui poi verranno associati tra loro questi i vari file tra quelli di calibrazione tra i light assolutamente sì perché sai spesso c'era il problema di per esempio di chi non è sicuro se un flat dark deve essere un dark o deve essere un bias oppure non è sicuro se caricando i flat dark siano associati ai flat oppure no quindi se dover calibrare i dark singolarmente con i bias oppure calibrare direttamente il master dark questa cosa capita esattamente quindi ci sono tante domande diciamo che non erano diciamo auto esplicate dall'interfaccia no? erano logiche molto nascoste in questo modo da questo pannello abbiamo chiaro tutti questi dettagli sono credo siano molto chiari e soprattutto sono anche interattivi quindi diciamo al di là di ciò che in automatico può fare lo script per creare l'associazione dei master e generare questi flussi di calibrazione se noi abbiamo bisogno di modificarli lo possiamo fare per qualsiasi gruppo alla fine l'autosufficienza sta nella comprensione assolutamente sì di un utente immagino cioè capire se effettivamente se hai una visione d'insieme se hai la comprensione di quello che accade questo ti permette in automatico anche di davvero comprendere meglio un po' tutto quello che riguarda l'astrofotografia in generale quello che va fatto e serve fare per ottenere un buon risultato perché alla fine è tutto qui sì e poi sai c'è anche un aspetto secondo me educativo sì in questo nuovo rilascio che va un pochino controcorrente e sta cambiando un pochino il punto di vista relativamente a quello che dicevamo prima impara a fare a mano e poi muoviti sullo script in realtà questa supervisione del processo di calibrazione attraverso questo pannello e attraverso questo grafico che ti fa vedere come saranno calibrati i file è supportata anche da un sistema di controlli diciamo tutta una serie di check che vengono fatti e che generano dei messaggi a cui si deve dare attenzione nel caso in cui ci siano delle configurazioni potenzialmente fallimentari oppure completamente errate quindi anche il neofita che vuole imparare a fare la calibrazione e sa qualcosina della calibrazione in realtà può imparare dal guardare questo pannello mentre avrebbe potuto inserire degli errori nel process manuale perché lì non c'è in tempo reale qualcosa che ti avverta dicendo ti guarda che questa impostazione non è ottimale assolutamente ma per di più come dire poi ci sono alcuni casi che probabilmente dall'anno problemi che ti vengono riportati immediatamente e poi sai sta l'utente come dire essere quel tipo di utente che vuole caricare i file e schiacciare play perché non ha tanta voglia di spendere tempo nell'approfondire certi argomenti oppure in realtà può essere un'opportunità per approfondire un certo tema ma per capire perché certe configurazioni non funzionano e via dicendo però proviamo a fare un elenco insieme del secondo te quali sono le proprio così flash le novità più importanti che sono state introdotte o cose nuove che si possono fare e che prima non era possibile fare la prima grande unità è questo pannello di controllo quindi supervisione controllo al 100% di quella che sarà la calibrazione della nostra sessione tutte le fasi di calibrazione i vari passaggi tutto quello che accade con la possibilità di personalizzarli certo certo customizzare creare il nostro flusso di calibrazione punto numero due importante è rimossa la limitazione per cui o utilizzavamo dei master frame per il bias dark e flat oppure utilizzavamo singoli frame quindi quando avevamo una libreria di dark per esempio ma avevamo dei dark specifici per la sessione bisognava prima generare i master e poi andare nello script e buttare dentro tutti i master adesso i master file sono riconosciuti in automatico e possono convivere con i singoli frame quindi possiamo avere combinazioni miste la terza grande novità è questa nuova feature delle cosiddette grouping keywords cioè le parole chiave di raggruppamento io ho fatto una ola l'altra sera durante il webinar quando sei arrivato a spiegarmi sta cosa quello quello anche è una cosa molto bella quella è il diciamo che è un'idea mia soltanto in modo parziale nel senso che l'ho condivisa con adam block che ha contribuito tantissimo a questa nuova versione qua ci siamo sentiti per settimane quasi tutte le sere via dicendo mi fece vedere come mi pare CCD stack sì che aveva una funzionalità simile sì ok io l'ho presa l'ho reso un pochino più flessibile e l'ho integrata in questo VBPP quindi il concetto era diciamo era nato da questa nostra idea abbiamo attinto da questa implementazione di CCD stack e l'abbiamo vestita sul VBPP a modo nostro e cosa succede ecco questa funzionalità qua fondamentalmente ci consente di creare un criterio assolutamente arbitrario sì quindi quello di cui abbiamo bisogno per raggruppare i file secondo delle necessità che sono assolutamente non necessità, secondo dei criteri che sono generali ok sì che sono quelli che possiamo scegliere noi ovvero al momento il raggruppamento dei frame avviene in modo con una logica diciamo che è assunta dallo script e non era modificabile quindi quando io aggiungevo dei light frame che avevano lo stesso binning, la stessa durata e lo stesso nome del filtro finivano tutti nello stesso gruppo esattamente e questo va bene ma in molti casi creava dei problemi perché se noi abbiamo più serate per esempio e vogliamo mantenere la calibrazione separate tra i light della prima sera e i light della seconda sera eravamo per qualsiasi ragione magari abbiamo mosso la camera abbiamo rifatto quindi flat qualsiasi ragione esattamente esattamente c'è gente che per esempio vuole tenere calibrati per i suoi motivi ma è stato chiesto più di una volta esattamente i frame scattati prima del meridiano e dopo il meridiano per esempio quindi loro gestiscono le sessioni in modo separato e volevano sempre tenerli separati ma non c'era nessun modo di farlo se non creando degli artifici incredibili usando i nomi dei filtri rinominandoli piuttosto che sostanzialmente facevi prima fare due integrazioni assolutamente e facevi due integrazioni con questa logica delle gruppi in keywords quello che si può fare è assegnare diciamo dei dei inserire dei dati che ci dicono questo light frame viene dalla prima serata questo l'altro light viene dalla seconda serata e se facciamo lo stesso anche con i flat per esempio questi due gruppi vengono completamente separati e vengono associati in automatico durante la calibrazione e questa cosa si vede chiaramente dal pannello di controllo certo è tutto gestibile da lì ed è ben rappresentato per essere sicuri che stia accadendo tu ad esempio puoi separare attraverso la data gruppi di scatti che diversamente verrebbero messi assieme e te lo fa quindi rispettivamente anche sui relativi scatti di calibrazione quindi già ti associa i flat giusti con i light giusti e via così assolutamente è molto flessibile ok è talmente flessibile che la cosa migliore diciamo più che spiegarlo è provare ad usare perché si possono combinare tanti tipi di regole e c'è anche un livello gerarchico diciamo per cui magari alcuni file si associano a una sola keyword altri si associano a due quindi ci sono dei raggruppamenti veramente flessibili questa è una roba che ha fatto scoppiare delle teste l'altra sera durante la vostra diretta è bellissima è bellissima e non ve la possiamo spiegare meglio di così perché di nuovo vi ripeto qui sotto troverete il link del webinar intero andatevi a vedere l'esempio perché è più intuitivo di quanto non lo sia spiegarlo a parole vi cito un caso reale che mi è successo la settimana scorsa una sera ho lanciato l'integrazione con un filtro a calfa di una galassia e mi sono accorto quasi alla fine che mi ero dimenticato di raffreddare la camera ok allora mi sono detto sai cosa faccio? faccio i dark faccio subito i dark e scrivo il dato di temperatura in modo tale che questi file qua me li tengo separati e me li calibro per i cavoli d'oro certo il quarto punto io mi ricordo un cfa mono ah certo certo vero anche quello c'è adesso grazie a questa logica di astrazione sui raggruppamenti ok è possibile aggiungere file provenienti da camere diverse e di conseguenza avere file che sono monocromatici RGB o qualsiasi altra cosa o anche avere che ne so uno scatto con le DSLR e altri con le CMOS mettere assieme tutto per non tanto per integrarli volendo anche per integrarli però per gestire la calibrazione di tutta questa sessione in una sola esecuzione avendo sotto controllo tutto il principio non è quello di sostituirsi all'uomo il principio è quello di consentire di fare una cosa che comunque si dovrebbe fare la calibrazione ma avere la maggiore facilità efficienza possibile efficienza, velocità ma allo stesso tempo controllo questa è la parola fondamentale perché non è più uno strumento che fa le cose per te è uno strumento che ti dice come saranno fatte le cose e tu devi essere sicuro che quei flussi li vadano bene e sono quelli che tu vuoi chiusura perfetta, non potevi riassumerlo meglio di così con tutta facilità quando guarderete questo filmato in descrizione o nel giro di poche ore troverete il link diretto Rob, io intanto visto che siamo arrivati e abbiamo raggiunto la mezz'ora per oggi ti saluto ringraziamo ti tantissimo poi spero di poterti riospitare anche in futuro in generale perché sono sicuro che avrai moltissime cose anche in futuro da raccontarci legate a questo ambiente a cui stai veramente donando moltissimo e quindi non vedo l'ora di vedere quali saranno le prossime novità i lavori con Pix continueranno? assolutamente sì bene, quindi non ti chiedo spoiler non ti chiedo scoop in anteprima no, c'è solo questa notizia ufficiale che sto lavorando sull'implementazione su GPU così esatto, quindi quando rilasceremo queste cose vedrete i vostri processing aumentare in velocità in una maniera io non vedo l'ora sono felice che tu sia mio amico perché sei veramente una persona in gamba e speriamo di rivederci anche presto nel momento in cui un po' le cose si sistemeranno ti ringrazio, mi faccio tantissimo piacere fare questa videochiamata grazie saluto anche voi se siete rimasti qui fino alla fine e noi ci diamo appuntamento per il prossimo incontro ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.